No, era un regalo per me Ma è Leo? Sì, me l'ha portato come regalo Leo? Sì Ma papà Stanno litigando per sto coso Stanno litigando ma l'ha portato per me Grazie L'ha fatto Eo Ma qualcuno gliel'ha pasticciato? No Non gliel'hai pasticciato tu? Eo, chi è che gliel'ha pasticciato dietro? Ha fatto tutto da solo Leo? Sei sicura? No, Yaya Ah, è stata Yaya pasticciarlo E si pasticciano i disegni di Leo? No Eh, no